Allarmante è l'aggettivo che meglio descrive il fenomeno della ludopatia nella provincia di Barletta Andriatrani, di cui si è discusso a Biceglie nell'ambito di un incontro organizzato dalla ASLE destinato a definire strategie di prevenzione, informazione e sensibilizzazione del disturbo del gioco d'azzardo. A preoccupare sono i più giovani. I dati un po' ci allarmano, soprattutto quelli riferiti alla popolazione giovanile che va monitorata e alla diffusione del gioco online che spesso sfugge ai modelli di controllo. Serve continuare a fare prevenzione perché la facilità di accesso a piattaforme online di gioco rende più complicato il controllo dei giovani che vanno sensibilizzati ai rischi della ludopatia che spesso sfociano nell'usura. Per questo il contrasto alle dipendenze patologiche va fatto ovunque. Stiamo applicando e declinando in tutta la ASLE BAT il piano regionale del contrasto del gioco d'azzardo patologico. La declinazione è appunto l'intervento che non riguarda soltanto la prevenzione nei luoghi di educazione come quelli della scuola ma addirittura all'interno delle sale da gioco. Abbiamo una convenzione con Confcommercio, stiamo facendo corsi ai commercianti, diciamo all'esercenti sui rischi della ludopatia per aumentare anche le possibilità di invio in trattamento di casi particolarmente problematici, così come azioni di convenzione con le strutture del privato sociale che per esempio diano una consulenza legale.